18.28, stiamo andando all'evento di stasera. Ieri sera siamo stati a Mezzomerico e abbiamo incontrato una cittadina piccola ma veramente molto attiva. È stata una bella serata, soprattutto di grande accoglienza. E stamattina invece siamo arrivati ad Alessandra dove ci ha accolto Alessia, che è un agente del cambiamento, e ci ha portato in giro a incontrare un po' di realtà. Ciao a tutti, è veramente un onore per me essere sul camper del cambiamento. Stamattina abbiamo intervistato una realtà, la comunità di San Benedetto al Porto, e oggi pomeriggio abbiamo intervistato un'altra realtà, che è Social Domus, due realtà attive sul territorio alessandrino. Adesso stiamo andando all'evento di stasera. Ringraziamo l'associazione Stazione Speranza, che ci ha offerto la loro sede per fare l'evento, e incontreremo tantissime realtà, sempre che operano sul territorio alessandrino. Quindi Alessandria è pronta per il cambiamento. Bellissimo, ciao!